e l'avventura comincia non so se arriveremo ma l'importante è che siamo in strada la neve ciao Steffi, mano e saluta, la galleria ecco ora ci fermiamo a mettere la cadena è strassica possiamo vedere qui non si vede nella strada dove stiamo andando dove siamo il CPS è una piccola grande siamo in un punto del direttore adesso è una piccola grande e dopo forse a fondo più corto esatto e arrivati, arrivati possiamo andare a fondo più scuola siamo arrivati a fondo grande vantaggio e nessuno fa nemmeno solo per noi solo per noi solo per noi saluta let's ride let's go M-I-A-A-T-L for show M-I-A-T-L for show M-I-A-T-L for show M-I-A-T-L for show M-I-A-T-L for show ciao devo dire che da questa altezza è uno spettacolo possiamo guardare la valle la valle la pisa vabbè oh chi se frega ha ha noi ci siamo che freddo cane che freddo cane yeah stacco ci sentiamo dopo per ulteriori aggiornamenti la velocità della luce la velocità della luce Manuel è venuto in oltre dell'amore si si è venuto in oltre dell'amore si 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 non sta a cascarmi però eh beh se vuoi cadere cadi più vicino che non ti veda neanche io ma che sei per essere intercettato ah io ovviamente no qua per terra che mi godo il paesaggio dai ora ci diamo di